Iniziamo con Caterina Todeschini che ci parlerà della pliometria dalla teoria alla pratica affrontando un po' quello che è il suo punto di vista nell'aspetto della pliometria in un team di elite nella pallacanesso femminile. Ok, facciamo un applauso a Caterina e ti lascio lo spazio. Buongiorno a tutti, innanzitutto per me è un grande piacere aprire questo convegno internazionale. Come hai velocemente introdotto Giacomo, vi parlerò di una piccola parte di quello che faccio con le ragazze. Ovviamente mi aggancio a quello che ha detto anche Dario, per me è uno spunto di confronto, non uno spiegare cosa faccio e basta, ma cercare di condividere con tutti voi la mia esperienza e quello che sto cercando di fare per poi magari portare a casa anch'io qualcosa di utile da questa giornata. Ok, parto presentandomi. Non faccio una presentazione di alleno la serie femminile, faccio l'Eurolega, queste cose, ma mi interessa farvi capire un po' il mio background. Io inizio come allenatrice di pallacanestro, istruttrice mini basket, giocatrice prima, ma questa parte la togliamo, e lavoro con le donne praticamente da sempre. E questa è la cosa che ci tenevo a farvi sapere, nel senso che poi la mia esperienza è anche con qualcosa del maschile, futsal, quindi non pallacanestro, però alla fine stiamo sempre parlando di uno sport che non è così distante dalla pallacanestro, ma la mia realtà è veramente il mondo femminile, per cui il percorso e quello che vi mostro è anche frutto dell'esperienza e di quello che ho vissuto in questi anni. E a livello alto adesso, negli ultimi sette anni, sono ai massimi livelli per la pallacanestro italiana, per cui posso parlare di pallacanestro d'elite, ma tanti anni infatti in settore giovanile con un livello che non è sempre di selezione, anche selezione a livello giovanile, avendo fatto le nazionali giovanili, quindi mi porto dietro un bagaglio che mi può permettere di vedere a 360 gradi la realtà femminile e da quando si lavora con le bimbe fino a quando si lavora veramente con l'atleta d'elite, straniere, eccetera. Ok, perché la scelta del titolo? Le quattro foto sono per dire che non voglio parlarvi di questo, nel senso che poi alla fine i risultati che si vedono in campo sono frutto, sì, del nostro lavoro, ma la priorità per un preparatore è anche e soprattutto quella di porsi degli obiettivi che vanno al di là del semplice vincere o perdere una partita e molte volte la bontà del lavoro fatto di staff può portare a un risultato positivo, ci sono stagioni in cui magari si fa un ottimo lavoro, ma per situazioni particolari non si riesce a raggiungere un risultato. Questo svincola da quello che è l'idea di quello che vi voglio dire oggi, quindi non andrò su una direzione prestativa, ma in un'altra direzione, quella di non parlarvi degli infortuni nel mondo femminile, ma partire da lì, spiegarvi un po' la motivazione delle mie scelte e perché ho nominato la pliometria. Parto da una piccola parte di ricerca, poi ogni tanto metto dentro degli spunti che sono quello che poi mi ha dato, mi dà un po' di valore sulle scelte che vado a fare quando lavoro con le ragazze. Perché voglio parlarvi e accennarvi al discorso degli infortuni nel femminile? Innanzitutto perché è un argomento che interessa a tutti, quindi togliamo al femminile e la parte di prevenzione, preabilitazione, nella riduzione del rischio di infortuni è un qualcosa che tocca tutti noi e va a prescindere dal risultato sportivo e questo lo sappiamo benissimo. Perché nel femminile, per chi lavora nel femminile lo sa benissimo, c'è sempre questo peso un po' di più di affrontare il discorso dell'infortunio, in particolare per quanto riguarda l'infortunio al crociato, ma non voglio focalizzarmi solo su quello, parto dallo spunto dell'LCA, in realtà la prevenzione o preabilitazione, chiamiamola come vogliamo, per capirci quello che riguarda ridurre il rischio di infortunio, ragioniamo a 360 gradi, prende dentro anche l'infortunio al ginocchio. Questa piccola immagine ci dà un'indicazione di come una cosa che differenzia veramente maschi e femmine che giocano a palacanestro è proprio l'incidenza di infortuni al crociato, quindi è un spartiacco importante per chi lavora nel femminile. Cosa vi mostro? Allora, innanzitutto, quello che vi dicevo prima, metto a confronto con voi le mie esperienze, cercando di mostrarvi come provo ad affrontare questa visione della preparazione fisica, vi ripeto, è una piccola parte, non è che è solo quello che faccio, assolutamente no, però il peso specifico che hai è molto importante per come poi mi approccio a tutto il lavoro. La domanda è, esiste una soluzione all'affrontare questo tipo di problematica? Non ho il protocollo, per capirci, non c'è l'esempio di esercizi quantificati, eccetera, ma è un percorso, è un continuo progredire, cercare di ascoltare voci nuove, fare esperienze, trovare una strategia diversa oppure consolidare una strategia già acquisita e mostrarvi un po' come, e secondo me quella è un po' la chiave, come organizzo il lavoro con le ragazze. Ok, faccio una piccola ancora, riguardo la pliometria, perché vi parlo della pliometria in particolare, questa è un'immagine che non è mia, ma mi piace riprendere quella base della piramide e della parte che mi interessa di più della pliometria, ok? Quindi non semplicemente l'esercizio ad altissima intensità, ma la fetta grande dove si fanno dei lavori magari con meno richiesta dal punto di vista dell'intensità, ma si va un po' più sulla qualità del gesto e sul controllo neuromotorio. Ancora, un'altra lettura chiave secondo me che poi mi accompagna spesso quando lavoro anche con le ragazze è questa abilità di gestire gli esercizi pliometrici leggeri con l'idea che caviglia, ginocchio e anca lavorano come una squadra durante il contatto dinamico e questa frase mi piace proprio perché dà il senso e a volte io ogni tanto lavoro anche con le ragazze giovani che magari sono un po' più acerbe, non hanno la terminologia, non riescono a capire, è un input interessante perché loro riescono un po' a capire la triplice flessione, poi vedremo qualcosa, però quanto qualitativamente possa cambiare l'esecuzione di un gesto capendo il senso di quello che si sta facendo. Da dove nascono le mie scelte? Quindi vi spiego un po' il percorso che faccio e che mi porta poi a decidere quello che ho deciso comunque per adesso e la strada che sto percorrendo. Innanzitutto la ricerca scientifica, in questo devo ringraziare Gennaro Boccia che dà a tutta l'associazione un grande supporto, in questo caso con me ci siamo confrontati spesso e mi ha dato un sacco di informazioni ed è il punto sicuramente di partenza per poter fare una scelta che non sia solo diciamo così una sensazione o perché ho visto o perché ho provato. Dall'altra parte c'è assolutamente l'esperienza sul campo, quindi al contrario, quello che mi dà di risposta all'esperienza che faccio mentre provo qualche cosa sul campo con le ragazze è una base solida che metto assieme a quelle che sono le informazioni che mi dà la ricerca scientifica. L'interdisciplina, le esperienze trasversali che si fanno, il confronto con altri colleghi magari non della palacanestro e quindi anche sentire una voce diversa sicuramente aiuta, il confronto con i colleghi, prove ed errori, mi interessa specificare che non ho un termine di riferimento, faccio questo tipo di esercitazioni, ho una riduzione degli infortuni, oppure ho un risultato oggettivo, ma l'efficacia con cui vedo di riuscire a incidere sulla qualità di quello che sto facendo e la continuità che riesco a dare nelle proposte che faccio con le ragazze. Adesso attualmente vi parlo di una realtà, la mia, dove io lavoro con un club che gioca campionato Eurolega, quindi capite bene che non è una settimana tipo dove posso fare tutti i giorni allenamento doppio, gestirmi e avere anche degli spazi importanti di tempo per me, per la parte mia di preparatore, ma è un continuo adattarsi e quindi ecco che è diventato importante per me capire in che direzione andare, proprio perché non ho tanto tempo a disposizione, ma c'è qualcosa di importante su cui io devo lavorare, oltre a tutto quello che è la parte di condizionamento, di forza, cioè tutta la parte che già conosciamo è comune a tutti, è un qualcosa che occupa già tanto spazio. Allora, ancora qualche piccolo spunto, informazione, cosa ci dice la ricerca? Qui è scritto in piccolo, ve lo leggo, no, non leggo niente, ecco, ve lo leggo, cosa mi interessa darvi da questa slide? Un'informazione sulle femmine che nel momento della fase di sviluppo, questo è per chi lavora con le giovani, ma è anche una consapevolezza di che struttura fisica abbiamo quando si lavora con delle atlete donne, c'è un trend di sviluppo che va in questa direzione, c'è un aumento d'altezza, poi un aumento di peso, poi un aumento della massa muscolare, della forza. E questa cosa, perché ve la dico? Perché poi molte volte c'è un mismatch, un disequilibrio tra peso e forza e questo mismatch non viene, diciamo, compensato e fatto rientrare nel percorso che fanno le ragazze per carenza di esercitazione di forza, quindi non è legato adesso all'argomento che voglio darvi io. Però la consapevolezza di questo tipo di step che c'è, di sviluppo per quanto riguarda le donne, è un qualcosa da tenere presente. Può succedere che ci si trovi con atlete adulte che hanno ancora una disparità per quello che può essere la massa muscolare, la massa grassa, proprio perché in fase di evoluzione non è stato fatto un lavoro di un certo tipo che potesse essere di accompagnamento e di crescita e sviluppo per loro. Ancora, sempre per stare in questo tema e per entrare un po' sulla realtà femminile, le ragazze iniziano ad evidenziare un aumento, un aumentato angolo a valgo ginocchio durante l'atterraggio, in particolare con l'inizio della pubertà. E vi ho sottolineato questo non perché ci interessa sapere l'informazione punto e stop, ma perché è un momento in cui è importante aver già fatto un lavoro educativo dal punto di vista della biomeccanica del movimento. E anche questa è una cosa che, nel momento in cui io mi trovo con un atleta che ha delle difficoltà dal punto di vista dell'esecuzione di un gesto semplice come può essere un piccolo arresto, proprio di controllo e dinamismo in sinergia, di triplice flessione, posso anche capire che non abbia fatto un certo tipo di percorso non solo di forza, ma anche formativo dal punto di vista del movimento, perché le donne hanno delle strategie di atterraggio e di esecuzione dei cambi di direzione e salti e via dicendo, che poi c'è un mondo che si apre in quella direzione lì, diverso rispetto a quello che può essere l'ottimale per quanto riguarda l'assorbimento delle forze e di conseguenza quello che poi si ripercuote su un aumentato rischio di infortunio. Faccio un piccolo passaggio indietro. Quando lavoravo con il settore giovanile, entra l'argomento infortuni, ok, ci si comincia a fare delle idee, penso che tutti dicono, ok, ci saranno dei protocolli, qualche cosa, creo un sistema, trovo un metodo per ridurre il rischio e vi ho portato alcuni esempi, non sono i protocolli, ma solo per farvi capire che ce ne sono e se ne trovano, questo non è neanche della pallacanestro, è conosciutissimo, dove ci sono un sacco di esercitazioni, qui adesso non si vede però, esercitazioni di corsa, otto minuti, forza, pliometria e balance, dieci minuti, running, due minuti, perché vi mostro questo? Un bellissimo protocollo, ma sono 20 minuti solo di protocollo, ok, e io nella mia testa, dove lo incastro un protocollo di 20 minuti? Però il contenuto è corretto, ok, altro protocollo, che quando lavoravo con Azzurrina, al tempo, stiamo parlando di tanti anni fa, c'è stato anche questa introduzione, chi magari ha avuto, sa che di cosa sto parlando, l'Ibip, anche qui, un bellissimo protocollo utile, efficace, assolutamente, sì, con all'interno, attivazione generale, esercizi di mobilità, esercizi di forza, esercizi di pliometria, agiliti col pallone, però io mi ricordo, quando lo facevo, erano 35-40 minuti di esercitazioni, per cui anche lì, adesso, ma anche al tempo, era dove lo incastro io, che devo fare la forza, cioè, devo fare tante altre cose, oltre a questa, che è importantissima. Ve ne porto un altro, questa è una cosa che abbiamo messo in piedi, con Andrea Molina e Matteo Panichi, che non ci sono, per i centri tecnici, qualche anno fa, era il 2017, dove appunto, partendo dall'idea di cercare di rendere, una cosa più snella possibile, abbiamo messo dentro questa pre-act, che è una sequenza rapida, di piccoli esercizi, dove c'è ancora qualcosa di controllo motorio, di rinforzo di core, equilibrio, balance, adesso purtroppo non si legge benissimo, ma comunque non è l'esercizio. Questa poteva essere un'idea di spunto, di partenza, però a livello molto, molto basico, ok? Per cui, prendo come inizio di ragionamento questo, che è stato un po' il percorso, che mi ha portato a fare delle scelte, ma non è il punto di arrivo. Ancora, ritorno a cosa ci dice la ricerca, perché poi intanto si continua a guardare, se c'è qualche informazione in più. Questo è frutto di review o meta-analisi, per cui ci sono tanti studi, alla base di queste conclusioni, che danno un'informazione interessante. Gli esercizi di landing sono cruciali per la riduzione del rischio di infortuni agli arti inferiori in generale, quindi non vi sto parlando del ginocchio, proprio arti inferiori in generale. Quindi tecniche di atterraggio, salti e controllo, drop jump, almeno 3-4 esercizi durante il riscaldamento, questa è l'indicazione. E questa è un'informazione interessante per me, io quando ho visto questa come indicazione, mi ha dato un buon punto per dire, ok, stiamo parlando di, non è pliometria, però è quell'argomento, la base bassa della piramide, dove c'è all'interno il controllo della gestione delle ricadute, del landing, dei piccoli salti. È una cosa che mi può tornare utile. La metto come informazione interessante. Ancora, questo è un'altra, frutto di un'altra meta-analisi, dove viene data una sorta di valutazione, di voto, all'efficacia del protocollo di lavoro che si utilizza in ottica di prevenzione. Questo era specifico per la prevenzione dell'infortunio al legamento crociato anteriore, quindi siamo un po' più nel campo della femminile. Non so se vedete, comunque i voti che vengono dati sono c'è nel vostro programma l'affondi, sì, un punto, se ce l'hai, esercizi per gli hamstring, uno, esercizi per i polpacci, uno, numero totale di esercitazioni, di stabilizzazione per sessione, da zero a cinque, quindi si potrebbe dare un punteggio fino a cinque, poi l'età dell'atleta, ovviamente se è più giovane è più efficace il protocollo, se viene fatto durante tutta la stagione è più efficace, se si è una persona competente e con un approccio, diciamo, validato di quello che si sta facendo, è più efficace il protocollo. Perché mi interessa questo? Perché è un altro spunto, il peso specifico delle esercitazioni di landing e stabilizzazione nella sessione singola è praticamente metà, perché vedete, qui non so, adesso non ho il puntatore, ma 11 è il valore totale, 5 è il peso specifico che ha questo tipo di argomento a livello di efficacia, di prevenzione. Ecco che è un'altra cosa interessante, quindi prima mi dicevano 3-4 esercizi, poi qui ancora mi danno un altro messaggio importante, forse lo tengo buono, ancora, la multicomponente è l'efficacia dell'approccio preventivo, ma questo lo sappiamo, più si fanno cose in maniera trasversale, più il nostro corpo è in grado di gestire poi l'imprevedibilità del giocato. Ma mi interessa anche qui sottolineare come la fetta grossa, e qui ci sono un sacco di argomenti e tipologie di jump, di drop, eccetera, eccetera, sia ancora importante rispetto a quello che poi è il totale. Anche queste sono tutte frutto di raccolte di più studi, quindi non è un singolo protocollo studiato, ma il frutto di tanti confronti. Vi metto anche questo, questo è una un test di valutazione della qualità di esecuzione dei cambi di direzione, ok? Quindi uno strumento che si può utilizzare a inizio stagione o durante la stagione per valutare, ci ha spiegato, poi se andate a vedervi lo studio, comunque ci ha spiegato come mettere le telecamere, eccetera, come fare la valutazione in maniera precisa, ma quello che mi interessa è intanto dare anche un approccio che non sia semplicemente eseguiamo, fa idea, perché avevamo detto la quantità, l'esecuzione, ma dobbiamo anche dare delle informazioni qualitative che abbiano un senso. In questo test di valutazione vengono messi dei punti di valutazione specifica, adesso vi faccio vedere qualche cosa, dove viene proprio data l'indicazione di correttezza o no dell'esecuzione del gesto. Ad esempio, la strategia di frenata al penultimo passo, la distanza dell'appoggio laterale, qui si dà una scala di valore, l'appoggio è troppo ampio, c'è un punteggio negativo, l'appoggio è corretto, c'è un punteggio positivo, adesso vado abbastanza veloce ancora, la posizione dell'anca iniziale se è intraruotata oppure no nel momento in cui si sta facendo un cambio di direzione, questo è riferito ai cambi di direzione, quindi non il LES test per capirci o altri tipi di test che sono sul salto o sull'atterraggio. La posizione del ginocchio iniziale nel cambio di direzione se è in valgo, la posizione del piede neutra nel momento in cui si esegue il cambio di direzione, ancora la posizione del tronco sul piano frontale trasverso, se il tronco è troppo verticale oppure in posizione indietreggia nel momento del contatto, una limitata flessione del ginocchio, movimento eccessivo di valgo nel momento di carico. La valutazione dà delle informazioni, allora questo può essere un ottimo inizio, ovviamente nel test loro ti danno poi una tabella con il criterio di valutazione, quantificando lo vedete qua, un rischio eventuale di infortunio, quindi si può identificare, adesso torno un attimo indietro, vediamo se riesco a non incastrarmi troppo, ok, si fa una valutazione iniziale, si identifica se ci sono situazioni anormali, quindi di importante rischio, si prescrive un lavoro specifico e poi probabilmente la riduzione del rischio di fortuna, quindi questo è l'intento del test. A me interessa il test non solo per questo motivo ma perché ci dà delle informazioni, adesso vado veloce così, saltiamo di là, non solo quantitativo che può essere un numero ma ci dà anche delle informazioni qualitative. questa è una tabella dove ci sono valutazione, i criteri per cui si viene a fare la valutazione e delle potenziali raccomandazioni di allenamento, esempio limitata flessione del ginocchio, tecniche di modificazione dell'allenamento, sono cose banali però voglio dire è già una linea guida che ci aiuta un pochettino e ancora esercizi pliometrici di atterraggio, controllo della parte bassa del corpo eccetera con feedback e via dicendo quindi uno se la guarda e ha delle informazioni. è interessante perché nel momento in cui poi io vedete quello che faccio non continuo a fare i test non ho il tempo di continuare a fare test valutativi però do una lettura iniziale di che tipo di situazione ho con le atlete quindi è esecutiva ma anche qualitativa di com'è il gesto che sta eseguendo l'atleta e da lì poi continuo nel momento in cui faccio qualsiasi tipo di esercitazione di piccolo landing di piccola pliometria di qualsiasi cosa che sia vicino a questo al di là poi della valutazione video di quello che può essere una valutazione del giocato che poi tutte cose che si fanno in itinere è un feedback è uno strumento che io so indirizzare nei determinati casi specifici c'è una ragazza che ha difficoltà a mettere il piede so che lo fa l'ho valutato nel momento in cui poi facciamo un'esercitazione che ci assomiglia do già un'indicazione o un feedback per cercare di indirizzarla verso l'esecuzione corretta e quindi si avvia un percorso quindi lo strumento è interessante come valutazione ma far fare delle esercitazioni usando la chiave di lettura di correttezza di esecuzione del test è uno strumento molto interessante da utilizzare per cui per me il messaggio è bello il test di valutazione lo prendo lo faccio mio e lo sfrutto più del test più del test per quello che è qualcosa in più che mi può dare ok traduciamo dalla teoria alla pratica quali sono i punti chiave sono in season quindi sto cercando di spiegarvi quello che succede non d'estate quando c'è tempo quando si possono fare anche lavori importanti dove non c'è il problema della partita dove non c'è il problema del coach che ha bisogno di tempi è tempo del preparatore se si ha la fortuna di lavorare con l'atleta ci si può sbizzarrire in tutti i sensi e in tutte le direzioni nel momento in cui si è in season bisogna cercare di incanalare il lavoro e lì diventa la parte difficile perché poi abbiamo visto i protocolli prima non abbiamo tanto tempo a disposizione noi preparatori quando lavoriamo di squadra dobbiamo ritagliarci dei momenti con gli atleti e con le atlete e dobbiamo fare qualcosa di efficace quindi faccio un protocollo di lavoro il lunedì ad esempio adesso faccio esempi banali ma per cercare di calarvi in quella che poi è la realtà allora io faccio un protocollo di 40 minuti il lunedì faccio il lunedì sempre è efficace fatto così cioè la mia domanda è ha senso fare una cosa del genere oppure trovo un momento per fare un protocollo di lavoro due giorni un giorno cioè riesco a trovare una soluzione da questo punto di vista e la mia risposta è sempre stata no perché non riesco a trovare il momento per fare il protocollo quindi devo far diventare tutto il modo di almeno quello che ho cercato e sto cercando di fare io è di far diventare tutta la settimana di lavoro il protocollo non so se capito cosa intendo cioè all'interno della mia settimana è un continuo un continuo cercare di mettere piccoli piccole pillole di esercitazione specifica fatta di protocollo dove io so che sto andando in una direzione e il monte totale il volume totale di quello che sto facendo mi dà un risultato che abbia un po' di efficacia vi faccio adesso vi faccio vedere qualcosa ma sono proprio esempi banali allora ancora utilizzo le test e valutazioni qualcosa avete visto poi ce ne sono altri che si fanno tutti i test che si possono utilizzare in base alle proprie possibilità quindi non è uno meglio dell'altro ma è quello più adatto alla realtà in cui si sta lavorando c'è chi è ad altissimo livello poi vedrete qualcosa sicuramente si utilizzano strumentazioni e tecnologie eccetera c'è chi non ha praticamente niente ma deve fare comunque una valutazione quindi trova lo strumento più adatto alla situazione in cui si trova e io faccio tesoro della mia esperienza a basso livello perché mi ha portato ad avere una consapevolezza di tutto quello che può essere lo scenario di approccio a un lavoro di questo tipo quindi non semplicemente il basso livello ma anche l'alto livello e viceversa quindi a 360 gradi i momenti in cui io posso mettere dentro qualche cosa sono per me il riscaldamento i lavori individuali quindi i momenti in cui si è con l'atleta lavori specifici e poi il lavoro in sala appesi alla fine tutto si riduce non è si riduce però tutto è riassunto in questi momenti qua quindi la mia il mio focus è devo mettere dentro lì quello che posso mettere dentro perché poi appunto c'è tanto cioè la squadra deve giocare a palacanestro avete visto noi poi non competiamo per partecipare per cui bisogna vincere e c'è una pressione di un certo tipo anche in quella direzione ecco qua allora ancora molto molto banale non è la realtà ma è una cosa per farvi capire un po' l'idea una settimana tipo a caso dove abbiamo due partite una di Eurolega una di campionato giovedì la domenica ma può essere mercoledì e sabato ma può essere che viaggiamo quindi non è la realtà sempre ogni settimana e anche quella è una cosa che non è facile da gestire ogni settimana è diversa e ogni settimana va reinterpretata perché una volta c'è un viaggio facile una volta c'è un viaggio difficile una volta c'è una partita importante una volta capita l'imprevisto abbiamo fatto un super master col covid penso tutti dove ci trovavamo in situazione parlavamo ieri sera con i colleghi ci trovavamo in situazioni dove non sapevi mai cosa succedeva la settimana dopo quindi la programmazione è veramente diventata un qualcosa di molto molto modificabile però facciamo finta che questa sia una settimana tipo e sotto vi ho semplicemente messo a grandi linee i tempi i minuti proprio di tempo che posso avere io a disposizione ipoteticamente se dovessimo fare una settimana dove un lunedì potrebbe esserci allenamento potrebbe essere giorno di riposo l'ho messo con il punto di domanda però indicativamente le attivazioni ce le ho sempre e che sia l'allenamento di basket e che sia il prepartita quindi le attivazioni ce le ho sempre quando ho un lavoro di pesi ho attivazione un'altra volta se facciamo il doppio più i 60 minuti di lavoro mio di pesi e poi ci sono i lavori individuali ho messo un 30 minuti ma poi il 30 minuti è tutto e niente perché dipende dalle situazioni dove appunto si prende l'atleta e si fanno i lavori specifici ripeto tutto questo non è solo la pliometria o quello di cui vi sto parlando quindi il tempo è questo ok allora la direzione è crea un protocollo di lavoro quello che vi dicevo prima cosa mi interessa che ci sia in questo approccio non è un protocollo di lavoro innanzitutto ci tengo a dire questo che non è un protocollo di lavoro cioè non c'è la scansione ma è proprio un'idea di una scelta su una proposta o delle proposte che siano efficaci quindi che siano ripetibili che siano presenti con costanza nella quotidianità delle atlete e che siano semplici ok quindi questa è un po' la base su cui poi io ho cercato di mantenere sempre tutto quello che si va a fare come proposte adesso è ovvio che poi man mano ci sono delle cose che si va un po' più sullo specifico qualche esercitazione un po' più complessa io vi mostro qualcosa vi chiedo perdono perché vi farò vedere dei video ma siccome non sono fatti apposta per far vedere la vita vera e quindi a volte si vedono atleti che fanno cose in esecuzione corretta però mi sembrava giusto mettervi dentro quello che sono riuscita a tirare fuori non sono una che fa i video vi chiedo perdono per questo allora qui a fianco avete un esempio di warm up anche questo non è si fa sempre così è proprio un esempio fatto per farvi darvi un'idea faccio un'esercitazione di frenata in avanti ad esempio vi ho messo la quantità per farvi capire soprattutto quello abbinata a una corsa avanti dietro con frenata poi un'andatura di ritorno e via dicendo ce ne sono di varie tipo potrebbe essere una sequenza di riscaldamento basico proprio pre allenamento di basket dove poi prima c'era stata una parte di stretching foam rolling mobilità articolare poi si fa qualcosa di un po' più alta intensità quindi è proprio un pezzetto questo quello che mi interessava mostrarvi fatto così in maniera non proprio contata ma a occhio diciamo così la quantità di piccoli landing resti che vengono fuori circa facendo un'attivazione di questo tipo che è banale che vi ripeto è banale ne abbiamo 52 più altri 52 più a volte magari nella mia sequenza di lavoro su una metà campo o a metà campo per così o a metà campo in orizzontale può essere che ne aggiungo anche e poi ci sono tutte le cose un po' più ad alta intensità ma abbiamo circa un centinaio di ripetizioni ad ogni allenamento quindi dico caspita un centinaio ogni allenamento e poi ci metto dentro tutta la parte di basket giocato che fanno quindi lì è esattamente l'esercitazione ad alta intensità frenate accelerazioni salti tutto quello che poi è la parte freestyle che non è controllata ma questa ha un peso specifico importante per me cioè se io do qualità all'esecuzione di questa parte diventa efficace allora devo dare un senso a quello che sto facendo ancora vi mostro questo io lo mostro perché mi piace ma non perché sia corretto non spaventatevi di ste bimbe che tengo le braccia su ma era per ipercorreggere solo per farvi capire quando sono piccole queste sono under 14 il percorso che faccio io solo per darvi l'idea è di prima passare attraverso una fase molto distante da quella che poi è la realtà esecutiva cioè di farli sentire gli angoli il controllo del corpo la posizione del busto in maniera anche esageratamente corretta per poi un po' alla volta accompagnarle a quello che può essere un'esecuzione un po' più spinta e quando si arriva ad avere qualche anno di esperienza in più a fare qualcosa di un po' più importante non è detto che un atleta di esperienza non abbia bisogno di fare un passaggio in questa direzione per cui non è che sia cronologicamente a 13 anni fai questo e a 20 fai quello ma in base al tuo percorso può essere che a luglio fai questo e ad agosto sei già andato super avanti perché hai un bagaglio motorio molto più importante rispetto a una ragazzina però l'idea questo è solo per mostrarvi non l'esercizio non prendete l'esercizio non è quello ma l'idea di un'esecuzione che sia come la faccio io molto corretta all'inizio anche troppo per poi lasciare un po' di un'esecuzione diventino proprie di ogni singolo atleta ancora questo è un esempio di una scheda appesi generica dove all'interno ci metto un lavoro con la scaletta che non è la rapidità ma è un lavoro poi adesso vi faccio vedere qualcosa e ad esempio sono esempi lavori di step and stick oppure atterraggi ma poi ci sono i drop ci sono all'interno della scheda appesi quindi so che uno degli argomenti del lavoro in sala appesi oltre a quello che fanno il riscaldamento e anche metterci dentro un altro 20 25 30 ripetizioni di landing di esercitazione di questo tipo mi interessa dare un senso numerico a quello che sto facendo per capire quanto riesco a incidere perché era il discorso di prima faccio una volta alla settimana 10 saltelli su un piede ok quanto efficace è faccio 100 ogni volta per 5 giorni alla settimana vi ricordate l'attivazione era quella che c'era sempre quindi la moltiplicate fanno 500 salti 600 salti che non è il salto e basta è l'atterraggio è il cambio di direzione visto in chiavi diverse a bassa intensità controllato dove cerco di dare qualche informazione sulla correttezza esecutiva facendo tesoro anche di quel test che vi avevo mostrato e dell'esperienza che ci si porta avanti quando si fanno questo tipo di di proposte io vi mostro no ho sbagliato vi mostro un po' di cose ancora aiuto faccio così scusate io la tecnologia non siamo ok non perché sia l'esercizio ma tanto ci parlo sopra è solo per farvi vedere quello che vi dicevo prima non è non è ho recuperato quello che avevo delle cose che avevo ripreso perché magari una ragazza mi diceva mandami un video eccetera quindi sono cose abbastanza banali ovviamente questo è il basico dove però l'intenzione è quella di portare l'atleta a sentire la correttezza esecutiva del gesto quindi l'angolo la chiusura la sinergia appunto tra caviglia ginocchio e anca non tutte le atlete sono in grado di controllare in maniera immediata questo tipo di gesti ci sono delle volte in cui nel momento in cui si chiede di fare uno zig zag banale con un arresto dove chiedo che facciano un landing mi fanno questo e bisogna star lì a correggere e questa cosa qua sembra una banalità però è un farlo 50 volte sbagliato o farlo 50 volte corretto questo è il senso di quello che mi sento di dire ancora questi esempi della scaletta sono side sono ancora cose per spingere per sentire per fare qualche sorta di skater o comunque di spostamento laterale alcune anche qui adesso non si vede tantissimo perché purtroppo non avendole fatte fare apposta non ho beccato i momenti in cui però ha esecuzione un po' più stretta ha esecuzione un po' più larga ampliando magari l'appoggio è un continuo lavoro di feedback che l'atleta mi dà a volte nel senso che sente magari riesce a spingere o comunque nella correzione dell'esecuzione come controllare il busto se c'era una situazione prima in cui bisognava correggere perché fatta la valutazione video iniziale si vedeva che non controllava tanto nel cambio di direzione ecco che diventa una chiave di lettura è ovvio che questo non è tutto ecco questo ci tengo a dirlo è solo perché questi ho e questi vi mostro ancora qualcosa avanti e indietro è sempre molto controllato ecco qua si vede un pochettino di più perché ho trovato un pezzo dove si aggiunge è un qualcosa dove è ancora controllato perché mi piace passare attraverso questa fase dove però gli scombino un po' e non è l'esecuzione corretta non pensate che questo sia il più bel esercizio ed è quello fatto perfetto è quello che stava facendo in quel momento dove io do indicazioni li stiamo correggendo è inserito all'interno ad esempio della scheda pesi faccio un'esercitazione di forza o qualcosa che poi esco in campo faccio un lavoro di questo tipo io sfrutto questi momenti per fare anche questo tipo di piccole che non sono ad altissimo impatto perché poi magari hanno la partita hanno l'allenamento la sera quindi non posso neanche fare un volume enorme di proposta che vada magari anche solo mentalmente a inficciare l'approccio delle atlete perché le ragazze tante volte bisogna spingerle un pochettino non hanno questa attitudine a dire mi spacco e faccio una roba super qualcuna sì però tante tendono un po' a tirare un pochettino indietro e questo tipo di lavoro lo sentono come faticoso perché devono andare ad angoli in cui non sono abituate perché devono spingere eccetera quindi diventa un qualche cosa di di faticoso ancora esempi sono solo proprio qualcosa sugli spostamenti laterali ancora qualcosa un po' più sempre molto codificato sempre molto non è ancora la parte di dove comunque poi c'è una parte anche libera di cambi di direzione e poi il giocato è il momento in cui sono libera di eseguire senza avere un controllo il passaggio successivo adesso non so quanto riesco a farvi vedere però è aumentare l'intensità nella velocità esecutiva quindi si comincia a mettere vai alla massima velocità si fa fare un test dicendogli è un test con il cronometro ma in realtà io sto guardando quello che sta eseguendo non quello che è il tempo di esecuzione però io do un focus diverso a loro in modo che non pensino che devono essere precise nell'eseguire il cambio di direzione piuttosto che l'arresto eccetera ancora altro esempio là dietro riconoscete ecco lì vedete che sono momenti in cui eravamo a piccolo circuito dove fanno delle stazioni con diverse tipologie di proposta di spostamento c'era la scaletta da una parte un agility test usato per andare a sentire gli angoli e a provare a fare delle movimenti di spostamento laterale eccetera quindi non un agility fatto per tenere il tempo poi in realtà quell'agility lo uso e gli dico adesso facciamo il tempo a massima velocità e vedo come stanno eseguendo i cambi di direzione non è corretto nel senso che stanno imparando a fare per cui è una fase in cui man mano si cerca di dare qualche indicazione di correzione quindi non è il gesto esatto è quello che devono fare sempre e combinato qui ecco è un po' si vede ma il video non rende tanto l'idea aumento la velocità esecutiva cercando di mantenere ancora il controllo in questo qua un po' più grande dove spingo un pochettino di più ok ritorno a quello che vi avevo mostrato all'inizio ecco che il tempo a disposizione che ho le attivazioni quei 15 minuti di attivazioni banali che tante volte noi siamo quelli che fanno riscaldamento e basta e invece diventa per me il momento il golden moment per me perché io so che lì dentro anche se a volte diventa noioso perché ripeti le stesse cose è un momento in cui a volte l'allenatore mi dice ma perché non gli fai fare un'altra cosa invece di questo e invece per me è importantissimo che quotidianamente quotidianamente poi non è sempre la stessa proposta di tipologie di arresti di landing di cambi di direzione ma nel giro delle cose che propongo la varietà quello che vedevate prima la varietà è importante per cui dare delle indicazioni e fare delle proposte in quella chiave ma in modalità diverse è la nostra capacità di inventarci o comunque di trovare delle proposte che siano sempre un po' challenging anche per le atlete e poi c'è tutta una parte dove uso gli elastici ci sono tutti gli step per questo è proprio una piccola fetta quella che vi sto mostrando però mi interessa sottolineare che abbiamo questi 15 minuti tutti i giorni praticamente perché poi anche nel prepartita o nel warm up inserisco qualche cosa perché comunque anche lì metto dentro qualcosa con l'idea di non è il momento in cui si fa la correzione ma di verificare anche come si stanno preparando le ragazze alla partita per cui se c'è quella che un po' ci sono e lo sappiamo benissimo quella che è un po' superficiale anche nel riscaldarsi non mi dice niente però magari ci devo stare un po' più attenta io nell'approccio durante la settimana per motivarle anche l'importanza di questo tipo di lavoro e poi appunto i lavori individuali se qualcuno ha delle carenze situazioni anormali quello che avevamo visto prima so che ci devo lavorare di più magari no e gli lavori individuali sono per altre tipologie di problematiche o perché si vuole migliorare qualche altro aspetto e il lavoro di pesi dove all'interno oltre appunto le attivazioni metto anche un qualche cosa in più ecco che ad esempio se facciamo il conto della serva che avevamo fatto prima i 100 salti e arresti eccetera del warm up lo moltiplichiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 700 più ne abbiamo 1, 2 che sono le due mattine ad esempio se si fa il doppio sono altri 100 siamo a 800 più qualcosina di individuale più qualcosina e durante la settimana io faccio un migliaio di piccoli lavori piccoli lavori di controllo non la parte ad alta intensità non la parte di giocato cioè dove io posso dare un po' di qualità senza invece che semplicemente far fare una corsa avanti e dietro fate l'arresto andate un po' a caso che tante volte ci scappa quella parte lì che magari invece diventa importantissima per quello che può essere poi l'efficacia per quello che vi dicevo prima il protocollo in realtà se ci siamo è dentro cioè ci siamo dentro nel protocollo capite quanto si fa quanto si può fare con praticamente solo sfruttando quello che noi abbiamo già a disposizione chiudo con questa frase che a me piace sempre tanto e la metto quasi sempre quando devo comunicare un messaggio a qualcuno e ricordando questa che è un'altra cosa che mi piace perché appunto dà una chiave di qualità esecutiva di quello che può essere un atterraggio spero di avervi accompagnato in questo mio di questo mio percorso e se avete idee qualsiasi cosa di confronto io sono qua e anzi mi farebbe piacere sentire anche un vostro un vostro feedback grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti